amici di corse di moto tv qui dal paddock dello spino con carlo leoncini ciao carlo ciao perché presentiamo un po di moto particolari qui qui ragazzi abbiamo la regina delle particolari lo spino la nuova creazione di carlo leoncini allora carlo non sto neanche a dire ma secondo me dimmi tutto tu perché non saprei da dove iniziare cos'è questa moto come l'hai fatta quali sono le sue particolarità allora innanzitutto buonasera a tutti grazie a mingo di questa cosa che mi sta facendo allora particolarità ho cercato di fare una moto leggera che non abbia una cavalleria tanto tanto esagerata perché la leggerezza il rapporto peso potenza l'orgoglio più grande aver scritto leoncini moto sul serbatoio questa è la cosa più importante per me è l'onore insomma la soddisfazione di portarla qua la moto dati tecnici un motore iper motarde però il sotto del motore un 998 a quattro valvole però l'ho usato perché per la particolarità della robustezza del carter motore è usato sempre l'albero motore del da 71 e 5 della ducati dell'iper motarde e le teste ci sono i pistoni pistol racing compressi la cilindrata a 1100 e l'assa camme quello della ducati performance quello medio quello quello abbastanza standard diciamo però che ti dà un pochino più di allungo sul sui giri in alto comunque tutte componenti ducati carlo tutti i componenti ducati allora ma gli scusi ti interrompo perché poi cavalli quanti sono tirato fuori cioè ho fatto una comparazione dalla moto quella che ho sempre corso la mia la mia moretti quella con col motore a carburatori avevo 93 cavalli di motore con questa qui sono riuscito arrivare a 115 cavalli di motore con i corpi farfallati del 999 un peso di iniezione siamo intorno ai 135 kg in ordine di marcia più o meno come una 502 tempi del moto mondiale anni 90 più o meno rapporto è molto leggera sì perché quello sì teoricamente ancora l'ho provata a casa lì nella strada dove sto una strada senza sfondo per la gioia dei vicini perché fare una serie essere vicini leoncini prima seconda prima seconda e con l'elettronica insomma abbiamo provato sul banco prova faceva un po di vuoto tra i 4 e 5 mila 4 e 5 credo di aver fatto degli scarichi un po troppo che svuotano un po troppo ho tre cartucce da sparare perché ho da mettere 3 db killer per vedere se mi migliora però poi dovrò diciamo un test allora toglimi tre curiosità quanto tempo ci hai messo a comporre questo gioiello come ti è venuta l'idea e più o meno a spanne ovviamente non al centesimo più o meno qual è la cifra investita perché da casa sai si chiederanno guarda quanto costerà farsi una moto del genere allora tempo impiegato perché e quanto tempo impiegato la prima foto di quando ho realizzato i laterali per fare per cuscire il telaio perché il telaio l'ha fatto moretti moretti di livorna grande moretti domenico e c'ho la foto di quando hanno cominciato CNC a girare che è di gennaio del 2021 Pieno covid, leoncini non spiocco da fare, fai una moto 21 anche prima Come ti è venuta l'idea? L'idea è di fare sempre qualcosa di nuovo Tenersi sempre belli sul pezzo Teoricamente ho voluto fare la moto da salita perché io credo che abbia un notevole potenziale io ho sentito la differenza solamente lì a casa dall'altro moto che era un telaio dell'83 riaggiustato ma allungato solo il forcellone Quanto pesava quella con cui correvi fino a Deruta? 138 kg Era molto leggera anche quella lì Questa sono intorno a quella diciamo 135-138 Poi mi avevi chiesto Più o meno quanto è l'investimento per realizzare calcolando tutto, ore di lavoro, componenti, professionalità, insomma tutto Io credo che sono quelle cose che si fa da matti È un esemplare unico? Questa è una moto delle tre Io avevo fatto, ho altre due moto che sono state fatte per due clienti E teoricamente diciamo che Questi due clienti mi hanno dato Come dire, carta bianca Quando hanno cominciato a vedere cosa facevo Ho fatto due moto Ma non so neanche se le useranno Le terranno sui cavalletti Quindi mi stai dicendo che oltre a queste che vediamo qui Ce ne sono altre due Allora adesso ti faccio una domanda Poi puoi anche non rispondere I clienti quanto hanno pagato queste moto? Più o meno? Allora faccio pensare così Sopra i 50? No, no Sopra i 50 no Mi basta già così Quindi sappiate che questo gioiello sta sotto i 50 Allora la moto numero uno Perché questa è la numero tre La moto numero uno l'ho data a questo cliente Che è un carissimo amico Carissimo amico Ehm Lui ha messo dei componenti molto belli Ha messo roba Forcelle del V4R I circhi OZ Ha messo cambio dentro barra 5 Valvole di titanio Cioè questo si è sbizzarrito in una maniera Avrà messo 7-8 mila euro di titanio Una roba Una roba Quindi pensare ancora meno di questa? Pensa meno di questa Siamo sotto i 135 mili Quella è Comunque ragazzi Ma si possono La domanda finale è L'appassionato che guarderà questo servizio Quest'intervista Penserà Cavolo Mi piacerebbe commissionare una moto leoncidi È un servizio che fai Oppure è una cosa È una questione molto privata Che fai assicurato No 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 Non è privata Perché il mio lavoro Insomma mi occupa di questo Però Non volevo Non che voglia Non voglia parlare Dire qualcosa Io avevo fatto un progetto Di 7 moto Con Moretti E Moretti purtroppo Per causa di forza maggiore Ha rallentato tanto il suo lavoro E non E non Diciamo Non riesce più A seguirmi È rimasta un po' Un'incompiuta Questa Per queste cause Sua che Insomma sta Come sta Purtroppo è così Io addirittura Ho i laterali Tutte le cose Per farla Però Non saprei come fare A fare un telaio Cioè io ho finito Questo telaio Che avevo Perché Moretti Me l'ha dato un po' Incompiuto Però Era già Ti guardi il forcellone Di questa Cioè sembrava una moto GP Ma non perché l'ho fatta io È veramente un capolavoro Le altre due Girano Fanno gare o Io li prendo in giro Perché a uno Gli farò l'assetto Da parquet E uno da moquette Le corse casalinghe Funzionano alla grande Sicuramente non si rubano Neanche se le tengono lì Ora Quelle lì Sono quelle che durano di più No scherzo A carburatori Glielo fate Una con i carburatori Ken da 41 E uno ha voluto Dell'orto da 41 Comunque devo dire Che è anche un bello oggetto Adesso non me ne vogliono I puristi Anche da tenere in casa In salotto Questo Io credo che non si troverà Nessuna moglie Che non lo voglia Uguale a queste Un pochino più squadrate Sul serbatoio Questa me la sono uscita Un po' addosso Per me Giustamente Cosa posso dire Te lo dico io In bocca al lupo Per questa stagione Carlo E siamo curiosi Di vedere come va andrà Questo primo weekend Quindi gas Ma con attenzione Perché bisogna fare un po' di Shakedown Come si dice Bisogna fare un po' di test E questo sarà Quello che farò Bravo Ciao Grazie Grazie amici Grazie di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti